ben ritrovati gentili amici del canale youtube Gianluca Rossi tv allora prima di tutto fatemi dare una notizia gli amici di Regen che mi accompagnano con i dispositivi come quello che sto usando in questo momento ricondizionati e quindi come nuovi hanno deciso per voi una grande iniziativa se andate sul sito Regen.info utilizzate il codice GLR già su tutti i prodotti avete un certo sconto o se andate direttamente a Cusano Milanino in via Emilia 3 ma fino al 6 gennaio gli amici di Regen sempre che utilizzate il mio codice sconto o a voce o online hanno deciso di raddoppiare lo sconto quindi vedete voi io ve lo dico poi vedete voi non avevo dubbi non avevo dubbi che avrei dovuto tornare stante la sosta a parlare della vicenda Suning Piff perché poi non è una vicenda solo Piff è una vicenda Suning anzi per la verità sarebbe una vicenda Inter già perché nel giro di poche ore una testata devo dire questa si è autorevole l'International Business Times degli Stati Uniti che aveva devo dire anche una versione italiana fino al 2017 ogni tanto mi capitava di leggere qualcosa online poi la versione italiana è stata chiusa credo proprio nel nel 2017 evidentemente per mancanza di contatti cioè però questo non toglie ovviamente che sia finalmente perlomeno se non altro dagli Stati Uniti rispetto ai quattro scalzacani che ogni tanto vi raccontano robe che non conoscono anche perché i protagonisti o i dirigenti loro li hanno visti soltanto in fotografia diciamo che l'ambiente finanziario effettivamente questo International Business Times ci riporta ancora il nome di Piff un miliardo per l'Inter documenti in arrivo a Milano questo qualche ora fa qualche ora dopo Ben Jacobs che è un giornalista della CBS anche lui insomma americano smentisce tutto insomma ci siamo come sempre nella solita vicenda che l'Inter sta per cambiare proprietà io non riesco a capire perché queste cose accadano sempre poi o meglio vengano riprese in Italia sempre durante le soste quando magari non ci sono molti argomenti no mi ricordo che anche a novembre la famosa data del 19 novembre c'era di mezzo una sosta insomma o qualcosa adesso figuratevi con la sosta lunga l'Inter va talmente tanto bene che perché non dobbiamo concentrarsi sul futuro quindi ci risiamo con questi che sono i cinesi di Suning che avrebbero secondo alcuni già venduto a questi che sono gli arabi di Piff alcuni dicono che è già fatta da sempre da mesi da mesi da mesi poi ovviamente quando accadrà diranno io l'avevo detto per primo come se io dicessi oggi che un primavera dell'Inter a caso farà 40 gol poi quando li fa tra 10 anni dico ecco l'avevo detto io per primo c'è chi ne è sicuro documenti in arrivo a Milano c'è chi ovviamente smentisce e lo vede invece come un attentato devo proprio dirlo questo a Suning perché insomma io sono tra quelli che non è che sopportino molto come sapete la proprietà lontana cinese a Nanchino però non posso fare a meno di rilevare che effettivamente c'è anche un po' un gioco economico per metterli continuamente in difficoltà cioè proprio credo nell'ultimo video editoriale vi avevo appena letto la lettera che Zhang Jindong con tutti i suoi difetti aveva mandato ai suoi 70.000 dipendenti di Suning.com e avevo rilevato come dell'Inter proprio non si facesse nemmeno parole però insomma in quella lettera si diceva il debito adesso è sotto controllo siamo pronti a ripartire con tutte le nostre attività dove in questo tutte le nostre attività uno insomma dotato di molta fantasia può metterci anche l'Inter bene hanno appena detto che vogliono andare avanti stanno rinnovando i contratti e dall'altra parte pif dopo il Newcastle prende l'Inter e per qualcuno lo rende tra pochi giorni il club più ricco del mondo a parte che non ho capito una cosa scusate il pif ha già preso il Newcastle tra l'altro ultimo in classifica non so se lo sapete cioè in premier lo sta trascinando non è colpa di pif per carità però vedi un po' te il Newcastle è ultimo in classifica tra l'altro gli hanno appena rinviato l'ultima partita che deve giocare con l'Everton per 14 casi di covid quindi resterà veramente ultimo in classifica ma scusate se pif ha preso il Newcastle perché non è Newcastle il club più ricco del mondo ma è l'Inter che sta per essere presa da pif questa cosa un po' mi sfugge perché quindi anche il Newcastle è il club più ricco del mondo no da quando c'è pif e come Newcastle quindi l'Inter quindi anche il Marsiglia perché vorrebbero prendere il Marsiglia e anche una società in Brasile quindi abbiamo quattro società che sono le più ricche del mondo però io continuo a pensare ragazzi che parlando facendo indagini con tutti i colleghi parlando con i protagonisti con gli azionisti ma che interesse avrebbero ma non dico a smentire ma nemmeno a prendere in considerazione al momento è al momento un'eventualità del genere no perché poi ci sono i fenomeni quelli che si improvvisano i giornalisti del condominio certo smentiscono ma in realtà confermano quindi se smentisci non va bene perché in realtà smentisci per confermare se stai zitto e no e allora è vero io credo guarda devo dar atto a Suning cioè a questi qui che sapete che non è che veda di buon occhio questi qua questi qua hanno comunque smentito in tutti i modi possibili e immaginabili l'idea di cedere l'Inter dicono ora che il debito è sotto controllo io non escludo l'ho sempre detto che l'Inter sia destinata a cambiare proprietà però non sono sicuro che saranno questi a prenderla tanto per cominciare non so neanche poi se sia così augurabile come chi non conosce nemmeno questi è già fantastica su arrivi club più ricco del mondo domineremo la scena dei ca io capisco che i social siano pieni di caproni tra l'altro a me adesso ve lo dico qualcuno si offenderà a me non fa neanche piacere di aver 44 mila persone che mi seguono sul canale youtube oltre 30 mila avevo detto a me stesso se passo i 30 mila di twitter devo fare in modo di bloccarne almeno un migliaio per tornare sopra cose così fatto perché è logico che su 44 mila persone non può parlare con 44 mila persone è chiaro che ti arrivano dentro dei caproni no è inevitabile io vorrei capire perché questi che hanno detto in tutti i modi in tutti i modi che non cercano compratori ma cercano finanziatori e questi se sono così ricchi col cavolo che fanno i finanziatori di questi no perché ce li vedete i cinesi e gli arabi e in mezzo ci sono io in questo momento che rappresento l'inter ce li vedete questi che parlano con questi per prendersi me o per cedere me ragazzi poi magari succederà ma che adesso stiano arrivando i documenti a milano e l'annuncio ufficiale ma zanga ha appena detto anche steven insomma nelle ultime volte che si è fatto vedere che al momento loro ripeto cercano finanziatori sapete la differenza tra un finanziatore e un compratore no quindi per essere chiari questi non vogliono vendere l'inter a questi altri ma al limite vogliono chiedergli se gli danno una mano parte che mi auguro sinceramente che questo non avvenga perché non mi sembrano due soggetti che possano tanto comunicare però ragazzi tutti abbiamo bisogno di sognare sogniamo pure sono solo io che mi preoccupo vedo sono solo io che mi preoccupo della supercoppa italiana imminente della ripresa del campionato perché il 90 per cento della gente pensa a cose futuribili praticamente ad occuparmi dell'inter di quello che sta per succedere di bello spero dopo quello che fin qui è successo mi pare di essere il solo vabbè ci vediamo presto e adesso aspettiamo naturalmente eventuali sviluppi che però vengano dall'interno non dai social ciao a tutti